L'esercitazione della legione allievi carabinieri di Roma, presenziate dal comandante generale Moizo, svolte durante la permanenza al primo campo d'arma organizzato nel pratone di Velletri, allo scopo di potenziare le virtù guerriere negli allievi, nei carabinieri e nei sottufficiali, temprandoli alla vita del campo, educandoli alla scuola dell'ardimento e addestrandoli all'uso efficace delle armi e dei nuovi mezzi di offesa e di difesa. Grazie a tutti!